A San Leone, a ridosso di Villa Pertini, innanzi al Ragnodoro, grave degrado incombente sulla spiaggia e ad ostacolo del deflusso delle acque, l'intervista ad un residente nella zona. Sono un residente di San Leone, frazione balneare di Agrigento. Mi trovo nella spiaggia di fronte al Ragnodoro. Questo alle mie spalle è il vallone Donna Cristina, che raccoglie tutte le acque meteoriche. Il vallone nella parte ricadente in Via Nettuno è coperto per circa il 99%. E, come potete vedere, nella parte culminante di questo vallone vi è un tappo fatto da sterpaie, pietre, fanghe, addirittura immondizia che impedisce il regolare deflusso delle acque piovane, specialmente nel periodo invernale. Ciò comporta un ristagno di acqua putrida, un lago che quindi comporta problemi igienico-sanitari quali zanzare, topi e odori nauseobondi. E vi dirò di più, con l'approssimarsi della stagione estiva, questo vallone, specialmente il suo interno, diviene luogo di ritrovo per extracomunitari e persone che lo utilizzano come bagno pubblico di tutta la frazione san Leonina. Pertanto chiedo una immediata bonifica igienico-sanitaria dell'area, specialmente al suo interno, e una disinfestazione correlativa a derattizzazione dell'area, perché noi residenti siamo stufi e stanchi di convivere con questi problemi. Questa non è l'agrigento che rinasce, questa non è l'agrigento che cambia.